E' una notata, bella giornata, mi sembra già perfetta, bellissima, cosa stavi notando? Sì, è per questo vi solito sulle lavare, mi sembra più grande, per questo vuotare nell'acqua. This opera was born from an experience in a music project in the Tuscan countryside. One thing's for certain, until very recently, I certainly wasn't thinking of composing an opera. Many of the adults who are involved either as parents or as amateur musicians within the project have great experience with theatre, they are involved professionally with theatre. And looking around, I could see that I had an entire equip to create scenery, lighting, costumes. And of course, the young musicians to take part in the music, which gave me the chance to write a piece which has been there in my mind for many years. It's a very particular music, which already contains some very theatrical elements. So, in the music scene, many times, the music has suggested me different ideas. The music scene is very important. con persone che non avevano mai fatto un percorso in teatro prima e quindi è stato un processo reciproco di scoperta e di conoscenza anche dei loro lati più personali. La opera è basata su una storia di Alan Garner, The Owl Service. È un libro che ho scritto quando ero quando ero, e è legato molto a quello che ero all'inizio, a quello che ero all'inizio, a quello che ero all'inizio. From that, to transform it into a piece here in Italy has required not only a translation of the words, but also a transformation of the context. from middle school is being told an arts is being told by miles nei ragazzi e negli adulti che facevano parte del cast dell'opera e credo che molto del mio lavoro è stato renderli autonomi e farli crescere in questa esperienza senza cercare di imporre una mia idea preconcetta su quello che dovevano fare ma mettendo nelle loro mani gli strumenti per poter esprimersi al loro meglio sentirsi al loro agio sul palcoscenico e alla fine credo che questo sia visto grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti.